Buongiorno a tutti, ai partecipanti a questo incontro presenti nella sede di Edolo e collegati online. Questo è il terzo incontro del ciclo una montagna di valore, imprenditori e innovatori per i territori montani e lo scopo di questo ciclo di incontri è quello di presentare aziende attive nel settore agricolo e agroambientale presenti nel territorio montano. Il principale obiettivo di questo ciclo di incontri è quello di condividere buone pratiche, di condividere casi di successo e metodi innovativi per fare imprenditoria nelle aree montane. Nell'incontro di oggi incontreremo i titolari dell'azienda agricola Cosa tiene accese le stelle di Bovenio, dottoressa Stefania Reali e dottor Simone Frassini. Oggi è un incontro sicuramente molto interessante perché al di là del caso di studio della formula imprenditoriale ci sono tantissimi altri motivi di interesse innanzitutto perché la storia di Stefania e Simone è veramente una storia emblematica anche dal punto di vista umano e poi è anche molto interessante perché trattiamo il caso di due neoagricoltori quindi che storicamente di cui famiglie storicamente non operano nel settore agricolo e quindi sono dei nuovi ingressi nel settore agricolo e abbiamo visto che i neoentranti spesso sono apportatori di novità, di innovazione all'interno del settore. Non ultimo motivo di interesse, Stefania e Simone sono stati degli studenti di Unimont e io ho avuto il piacere qualche anno fa di essere proprio il relatore della tesi di laurea di Stefania Reali che conservo gelosamente qui come esempio per i miei studenti di come si deve lavorare. Tesi di laurea che si intitolava insediamento di giovani agricoltori in area montana valutazione economico finanziaria di un progetto a valenza multifunzionale. Quindi tutto è iniziato da qui perché diciamo con Stefania abbiamo iniziato ancora quando era studentessa a fare dei ragionamenti poi su quella che sarebbe diventata l'azienda agricola. Cosa tiene accese le stelle appunto di cui parleremo oggi. Io qui mi fermo e lascio la parola a Stefania e a Simone. Buongiorno a tutti. Sono Stefania, lui e Simone. Siamo appunto i fondatori e gestori dell'azienda agricola Cosa tiene accese le stelle. Siamo partiti proprio da qui dall'Università della della montagna nel luglio del duemiladodici eh quando mi sono laureata e anche se il progetto è partito molto prima perché ancora quando eravamo studenti abbiamo cominciato a imbastire eh il progetto della nostra azienda a crearla almeno nelle nelle nostre teste e a cercare il posto giusto da dove farla partire perché appunto non non per fortuna o per sfortuna non avevamo una base alle spalle non avevamo una storia alle spalle e quindi dovevamo costruire tutto quanto da zero quindi anche acquistare proprio eh i terreni la la cascina dove da dove sarebbe partito tutto. Noi. Ok. Allora noi eh a a nel duemiladodici abbiamo trovato questa cascina eh in Alta Valtrompia eh a Ludizio di Bovegno precisamente era una cascina allora eh utilizzata mh parzialmente come casa di vacanze eh quindi era principalmente era abbastanza abbandonata con un grande terreno tutto intorno due ettari e mezzo ed è una di quelle cose che ci hanno eh orientato in questa nel nel scegliere questo posto perché in montagna è molto difficile trovare eh così tanto terreno tutto accorpato soprattutto vicino alla cascina un fabbricato e quindi questa già era un era un grande un grande punto a suo favore eh siamo a circa quaranta trentacinque quaranta chilometri da Brescia e a cento venti chilometri da Milano siamo tra i due laghi il lago di Iseo e il lago di Garda eh siamo in una valle che storicamente non è eh una valle turistica e non è una valle agricola ma è principalmente una valle industriale quindi eh solamente negli ultimi anni quindi vuol dire proprio negli ultimi quattro tre quattro anni ha ha cominciato a scoprire la parte turistica la parte paesaggistica soprattutto dell'alta valle e quindi mh quello ecco è stato un punto eh un punto un po' difficile perché eh oltre a alla difficoltà del lavoro in sé siamo andati a insiediarci in una valle che non era ancora eh non è ancora sviluppata dal punto di vista turistico quindi c'era una difficoltà in più però abbiamo la grande fortuna di essere abbastanza vicini alla città eh ad esempio rispetto alla Val Camonica l'alta Val Camonica e in quaranta minuti un'ora siamo in città e questo ci ha permesso di di sviluppare un buon mercato eh siamo appunto partiti nel settembre del duemiladodici partiti vuol dire che abbiamo aperto la la partita IVA nel duemiladodici eh nel settembre duemiladodici eh siamo riusciti ad avevamo ventitré anni tutti e due siamo riusciti ad acquistare eh grazie all'aiuto del dei nostri genitori eh quindi non abbiamo eh né in quel momento né dopo eh fatto non abbiamo partecipato a bandi finanziamenti eh ma sono stati quasi tutti completamente fondi privati eh quindi grazie ai nostri genitori siamo riusciti ad acquistare in quell'anno tutti e due abbiamo trovato un lavoro un altro lavoro un altro impiego eh io a tempo determinato Simone invece a tempo indeterminato e questi e i due lavori eh sono stati eh la fonte principale di di entrate nei primi anni e sono stati quelli che ci hanno permesso poi di aprire il il mutuo eh il classico mutuo per ristrutturare la cascina e per avviare l'azienda eh quindi eh siamo partiti eh con le con con l'aiuto della famiglia e con un altro lavoro eh dopo man mano eh abbiamo abbiamo verso i vari mattoni a primavera estate del duemila e tredici sono iniziati i lavori di ristrutturazione della cascina che eh sia casa che parte dell'azienda quindi laboratorio magazzini eccetera spaccio e in quell'anno abbiamo cominciato a fare i a fare i terrazzamenti eh nel terreno perché adesso questa è una fotografia più recente nel senso che quando abbiamo acquistato c'era un prato ripidissimo e una delle prime cose che abbiamo deciso di fare sono questi gradoni questi terrazzamenti per ricavare un po' di piano un po' di parte coltivabile piano eh da dedicare da dedicare soprattutto all'orto poi eh nell'estate del duemila e quindici siamo riusciti a trasferirci in cascina eh mantenendo ancora i due lavori sempre alle alle spalle e a verso la fine del duemila e quindici io ho deciso di mollare il mio lavoro principale di dedicarmi completamente all'azienda eh perché a un certo punto eh abbiamo capito che dopo negli anni abbiamo è sempre stata una conferma che finché non fai il salto rimani fermo perché non non riesci allargarti più di un tot avendo un avendo altri lavori non riesci ad allargarti più di un tot e quindi l'attività agricola non non diventerà mai la tua attività principale. Eh a ottobre del duemila e sedici quindi quattro anni dopo siamo riusciti ad aprire il laboratorio di trasformazione e quindi ad avere le prime grosse entrate le prime entrate effettive che derivavano dalla trasformazione. Eh in questi anni dal duemila e sedici al duemila e venti sono stati anni di di rodaggio quindi di di ampliamenti di sperimentazioni di inserimenti di nuove culture dopo sempre con lui con il lavoro a tempo indeterminato. A gennaio duemila e venti eh ci siamo fermati perché abbiamo avuto un incendio che ha distrutto tutta la cascina e quindi abbiamo avuto uno stop di otto otto nove mesi perché eh abbiamo vissuto solamente con la parte esterna quindi con le culture esterne e la parte di trasformazione non c'era più e a ottobre del duemila e venti siamo riusciti a ritornare operativi quindi a a riprendere tutto quello che avevamo lasciato eh nove mesi prima. Nel frattempo in quella estate in quella primavera estate ci siamo allargati con i terreni prendendoli in affitto eh prendendoli in affitto da privati e dal comune dove abbiamo dove abbiamo residenza eh per allargarci con la coltivazione eh soprattutto dei frutti di bosco perché ehm negli anni abbiamo visto che la richiesta soprattutto del fresco eh copriva una una buona fetta di mercato. Poi a ottobre del duemila e ventuno eh abbiamo fatto l'ultimo salto eh l'ultima decisione grossa è stata quella di eh fermarci anche con il suo lavoro a tempo indeterminato quindi con tutte le garanzie che che comportava l'avere uno stipendio fisso e quindi questo è l'anno di prova per vedere se ce la caviamo abbastanza bene tutti e due con con questo lavoro. Eh dunque noi come già detto eh economicamente non abbiamo eh ci siamo appoggiati alle nostre famiglie a alle entrate dei nostri lavori al di fuori della dell'azienda e e e poi dal duemilasedici in poi alle entrate dell'azienda non abbiamo partecipato a bandi non abbiamo richiesto finanziamenti eh l'unico finanziamento l'unico sì l'unico finanziamento che abbiamo richiesto è stato dopo l'incendio eh per acquistare il gruppo di frigoriferi e l'abbattitore per il per il nostro laboratorio e non abbiamo mai fatto ricorso ai a bandi all'inizio soprattutto un po' spaventati per la burocrazia e un po' perché eh allora ma credo anche adesso eh i finanziamenti i bandi erano strutturati per attività già avviate e e noi partivamo completamente da zero quindi voleva dire ehm anche acquistare per acquistare non non esistevano bandi finanziamenti fatti ad hoc e quindi ci siamo aperti il nostro classico mutuo e ce la siamo cavata così e abbiamo negli anni eh abbiamo continuato ad allargarci ad investire e quindi magari gran parte delle entrate che avevamo dall'azienda venivano subito reinvestite per per ampliarci ma soprattutto per diversificare l'offerta eh dei nostri prodotti perché fin da subito abbiamo capito che la diversificazione poteva essere eh il punto forte e la diversificazione comunque fatta bene non non tante cose fatte male ma tante cose curate e a chi ci chiede come ce l'abbiamo fatta anche dopo l'incendio eh credo che buona parte del tutto sia derivato un po' dal nostro carattere un po' dal fatto che siamo in due e due che credono nel nello stesso sogno nello stesso progetto e quindi quando c'è il dubbio di uno arriva l'altro perché comunque i dubbi ci sono quasi tutti i giorni le paure ci sono quasi tutti i giorni e gran parte della forza arriva dal fatto che siamo in due questa era la cascina prima quindi all'inizio quando l'abbiamo acquistata con i primi lavori e questa adesso è sgranatissima questa fotografia perché ce l'ha fatta la nostra geometra dall'altra parte della valle eh bene o male come adesso quindi si vede un po' come strutturata e comunque come ci troviamo in un posto non non facilissimo soprattutto dal punto di vista della meccanizzazione siamo ottocentocinquanta metri di quota nella parte bassa sul prato alto sono novecentocinquanta metri abbiamo un'esposizione su su dove ecco questa è la nostra vista quindi il paese non è lontanissimo da noi però la strada comunque non è delle delle più comode noi principalmente coltiviamo frutti di bosco adesso con i nuovi impianti siamo a circa cinquemila metri quadri di di frutti di bosco eh che vendiamo che utilizziamo sia per il fresco sia che per la trasformazione in azienda e poi coltiviamo piante d'alto fusto quindi classiche mele per le albicocche le susine le ciliegie che destiniamo tutte alla trasformazione perché sul mercato il fresco non avrebbe non garantirebbe grosse entrate perché non non si possono fare dei prezzi troppo alti per il fresco e non con le quantità che abbiamo non sarebbero sprecati coltiviamo fragole a terra eh su circa cinquecento metri quadri in rotazione pluriennale eh le ruotiamo quindi su quei gradoni che avete visto con l'orto i legumi eh che anche quelli vendiamo eh sia freschi e in parte destiniamo alla trasformazione dal duemila e sedici duemila e diciassette abbiamo eh ampliato anche l'offerta con le erbe aromatiche e i fiori commestibili che utilizziamo per la trasformazione quindi essicchiamo il laboratorio vendiamo trasformati in azienda abbiamo un piccolo apiario di circa diciotto venti famiglie variabile a seconda del degli anni ecco con cui produciamo il miele di flora montana sono api stanziali quindi non facciamo nomadismo e abbiamo una parte di bosco che utilizziamo per per noi quindi per alimentare per riscaldarci noi per riscaldare la nostra acqua e e così via queste sono le nostre api e sui frutti di bosco coltiviamo lamponi rifiorenti e i ribes rosso bianco e nero l'uva spina e da poco abbiamo introdotto anche i mirtilli che coltiviamo abbiamo deciso quest'anno di coltivare in vaso perché dopo varie sperimentazioni non non c'è il terreno adatto in quella nella nostra azienda e quindi abbiamo deciso di orientarci sul vaso e e poi appunto buona parte delle entrate oltre che il fresco derivano dalla trasformazione quindi dal laboratorio che abbiamo in azienda è una cosa su cui abbiamo puntato fin da subito un investimento che abbiamo deciso di fare subito e magari eh tralasciandone altri però eh ci piaceva di più l'idea di seguire il nostro prodotto da dal dal proprio dal campo fino alla fine senza affidare la trasformazione ad a a laboratori esterni e secondo me anche questo ha fatto la differenza perché ehm è un pregio riuscire a seguire il tuo prodotto fino alla fine trasformiamo diversi prodotti siamo partiti con le classiche marmellate composte confetture e poi negli anni ci siamo lanciati su tanti nuovi prodotti sperimentali strani eh che hanno fatto la differenza eh perché ti rendono più visibile sul mercato ti rendono più appetibile più interessante e diverso eh abbiamo l'anno scorso abbiamo inaugurato una linea di cosmetici fatta con i nostri prodotti con la nostra materia prima la facciamo trasformare a un laboratorio cosmetico abilitato eh però anche quello è stato un una novità che ha anche in quel caso portato delle buone entrate delle buone entrate andiamo se va avanti ok beh questi sono i nostri fiori commestibili che trasformiamo che essicchiamo poi vendiamo ehm a ristoranti o chi vuol lanciarsi in cucina in sperimentazioni sempre questo è il nostro laboratorio di trasformazione per quanto riguarda la vendita dei nostri prodotti eh una piccola parte viene fatta direttamente in azienda quindi in campo e abbiamo dal abbiamo inaugurato con la ristrutturazione dopo l'incendio eh lo spaccio in azienda che fino ad allora non avevamo perché era una cosa che non avevamo non avevamo valutato perché essendo così fuori mano ci siamo sempre detti non vale la pena sprecare un tot di metri quadri di casa di di attività di laboratorio per uno spaccio ma negli anni invece è reso necessario e quindi da ottore duemilaventi abbiamo anche lo spaccio in azienda gran parte delle entrate però derivano dalle vendite online e soprattutto tramite i social e noi viviamo parecchio su su facebook perché eh richiama la fetta di mercato la fetta di consumatore che è il nostro cliente tipo facciamo dei mercati occasionali e della domenica fissi e sono comunque pochi non è il mercato settimanale perché è un altro lavoro anche quello è un altro pezzo di lavoro e quindi essendo in due non non possiamo farne troppi perché o sei là o sei in azienda facciamo le consegne a domicilio già prima della della pandemia le facevamo perché abbiamo sempre detto che il cliente dobbiamo raggiungerlo noi perché appunto siamo difficilmente raggiungibili quindi facciamo consegne a domicilio giornaliere eh tutte le quasi tutti i giorni eh gratuite nella nostra valle fino in città adesso dal duemila e dall'anno scorso abbiamo introdotto anche le consegne mensili a Milano quindi una nuova un nuovo mercato e poi ci affidiamo alle spedizioni quelle classiche col corriere eh sempre ehm una cosa che credo ci abbia sempre contraddistinto fin dall'inizio è la cura l'ordine la pulizia con cui cerchiamo di seguire l'azienda e i nostri prodotti è una cosa a cui teniamo parecchio eh che anche quello nel negli anni abbiamo visto fare la differenza sia per noi per l'organizzazione in azienda nostra quindi per l'efficienza eh ma anche per l'immagine che che dai all'esterno quindi cerchiamo di curare il nel minimo dettaglio magari sembra una perdita di tempo delle volte all'inizio però è una cosa che ti ripaga eh dal punto di vista del quindi agronomico all'esterno eh cerchiamo allora inizialmente gran parte dei lavori li facevamo manualmente eh negli anni abbiamo cominciato ad a meccanizzarci perché negli anni abbiamo scoperto che c'erano magari delle macchine anche adatte per zone così difficili come la nostra però è una di quelle altre cose che abbiamo dovuto testare negli anni perché all'inizio eh non trovavamo non era così facile non era scontato eh trovare il macchinario ideale perché non non c'era una gran conoscenza e e quindi abbiamo anche lì abbiamo fatto tanti investimenti tanti errori fino ad arrivare un po' a un buon compromesso eh quindi ci affidiamo di eh affidarci eh alle nostre risorse quindi con quello che abbiamo cerchiamo di di trovare delle soluzioni che ti permettono di risparmiare economicamente ad esempio per l'antigrandine eh non abbiamo chiesto a una ditta esterna di costruirci l'impianto eh un po' alla volta ce lo siamo costruito e ce lo siamo costruito eh anche per l'irrigazione anche quella eh ce la costruiamo negli anni eh l'impianto è ancora in costruzione tutti gli anni ne aggiungiamo un pezzettino eh ci siamo orientati comunque in ogni caso ovunque sia sull'orto che sul frutteto sul micro goccia per risparmiare eh per risparmio idrico e utilizziamo cerchiamo di utilizzare gran parte dell'acqua piovana che riaccogliamo dai tetti eh utilizziamo la pacciamatura dove riusciamo le la pacciamatura naturale che facciamo col cippato eh che ricaviamo dalla pulizia del bosco è una pacciamatura che ci permette di di risparmiare soprattutto dal punto di vista idrico e su alcune colture va bene su altre abbiamo visto che invece dobbiamo comunque ricorrere alla pacciamatura tradizionale col telo intrecciato eh poi alcune mh per quanto riguarda ehm trattamenti contenimento malattie patogeni eh anche qui eh negli anni abbiamo cercato eh un attimì un po' la volta di eh ridurre al massimo ogni tipo di trattamento eh ci siamo orientati ad esempio sul rilascio di insetti utili eh in particolare ad esempio per contenere la drosofila che colpisce i piccoli frutti eh abbiamo cominciato ad utilizzare le le trappole cromotropiche i tap trap insetti utili la raccolta la raccolta frequentissima l'estrema pulizia del del frutteto per quanto riguarda il diserbo facciamo diserbo manuale o meccanico eh dove riusciamo quello meccanico se no è strappi l'erba ti metti giù e strappi l'erba e e poi un un altro grosso investimento che abbiamo fatto è stata la la rete antigrandine perché questo ci ha permesso di ridurre i danni alle colture e quindi trattamenti successivi e questi sono ad esempio questi sono un mix di afidi che rilasciamo per per l'orto principalmente per l'orto e dopo ci sono per ce ne sono anche di specifici per la fide del melo ma il nostro grosso problema era la drosofila sui sui piccoli frutti soprattutto in alcuni anni dopo anche quello va un po' anni a seconda della primavera come com'è come non è e questa è la coltivazione dei mirtilli invagio che abbiamo cominciato questa primavera e anche anche in questo caso abbiamo optato per l'irrigazione a micro goccia e dopo con la pacciamatura in questo caso di conifera eh per aiutare un po' l'acidificazione per per aiutare un po' il mirtillo questi sono i terreni i nuovi terreni che siamo riusciti a prendere in affitto per ampliarci con i piccoli frutti eh quindi anche qua tutto un pezzettino alla volta abbiamo fatto questa è la nostra rete antigrandi ne sono le nostre soluzioni che cerchiamo di di inventarci soprattutto lui per per risparmiare eh una un terreno di dei nuovi presi in affitto era un vecchio terreno abbandonato non veniva appascolato comunque tagliato guardato da almeno vent'anni quindi era un tappeto di rovi e è stato uno dei nostri obiettivi dello scorso anno quello di renderlo utilizzabile e e siamo arrivati qua da da allora da quel mucchio di rovi siamo arrivati a alla coltivazione anche qua di lamponi e abbiamo nuovi progetti ovviamente per sempre per aumentare un attimo l'appetibilità sul mercato ma anche per attirare più persone in azienda eh perché questo almeno ti permette magari di ridurre i mercati e quindi di essere più più presenti in azienda e quest'anno abbiamo inaugurato questa nuova eh un'area picnic libera e si può venire su tranquillamente a farsi la la merenda e c'è vicino il nostro spazio per 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 arricchire il tutto e basta questo era il grosso di noi grazie mille eh non so se il professor Bertoni vuole aggiungere qualcosa le lasciamo la parola sicuramente un grande ringraziamento a a Stefania e Simone per per la loro testimonianza è veramente una una storia bellissima quella di 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 questa di questa azienda eh io lascerei spazio alle domande però mi permetto io di 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 fare di fare la prima ed è questa eh abbiamo detto che Stefania e Simone sono di neoagricoltori quindi provengono da 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 altre storie eh sono diciamo sono insediati anche per per la prima volta non essendo originari del luogo in Valtrompia e quindi la prima domanda è come come siete stati accolti in 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 questo territorio eh e poi diciamo come come si è evoluto questo questo rapporto nel nel tempo soprattutto poi anche alla luce insomma della della grande solidarietà che eh che c'è stata appunto dopo il il grave incendio che appunto vi ha vi ha colpito dopo qualche anno di attività. Allora noi quando siamo arrivati in in all'udizio a Bovigno eravamo piccoli perché avevamo ventitré anni quindi eh non è che non non è che siamo stati accolti male però siamo stati accolti con malfidenza non si sapeva cosa saremmo andati a fare non si saremmo non si sapeva cosa avevamo in testa eh sì da pochi ce ne sono stati pochi che che credevano che hanno creduto fin da subito in quello che volevamo fare ecco ehm ma non solo dove siamo arrivati non solo lì in Valtrompia un po' ovunque dove quando si parlava del nostro progetto era comunque un progetto folle perché appunto partiva da zero completamente eh magari ancora adesso lo è dal visto così eh quindi inizialmente dal dalle persone dal dalle per dagli abitanti del del posto eh sì c'è stato distacco sì non indifferenza ecco non non riscuotevamo grande successo ci sono state le alcune persone che fin dall'inizio appunto ci hanno aiutato ci sono state vicino che ci sono tuttora e il grande cambiamento è stato appunto in occasione dell'incendio perché lì eh abbiamo scoperto di avere intorno eh un sacco di persone che che ci volevano che ci vogliono bene che fino ad allora non non avevamo più la la più palida idea ci fossero eh perché da quel momento appunto si è mosso si è mosso il mondo eh e quindi probabilmente anche all'esterno siamo riusciti a far a trasmettere eh la serietà del o comunque la serietà del nostro progetto che non era una cosa campata per aria non era un capriccio non era sì non era un capriccio eh ma era qualcosa di serio e quindi da allora sicuramente è cambiato è cambiato bene grazie allora io aprirei a questo punto lo spazio eh per le domande eh sia da parte del pubblico presente in in sala eh che da parte di chi ci segue eh online prego eh se non mi sento alla casa ciao eh grazie mille della presentazione volevo chiedervi un po' eh quali erano le caratteristiche eh caratteristiche anche eh burocratiche proprio per del laboratorio di trasformazione sia quello di eh per le confetture prodotti alimentari che quello per magari l'essiccazione se sono lo stesso o se devono essere separati e anche eh immagino ci siano dei dei corsi per poter ehm operare in condizioni di igiene e appunto quali sono? Allora la parte del laboratorio la parte burocratica del laboratorio è stata una delle delle più difficili da da affrontare perché ehm purtroppo ci sono indicazioni ma sono indicazioni generiche e interpretabili un po' a seconda della della zona quindi dell'ASL eh di competenza di quella zona quindi noi eh ci siamo affidati a una geometra che per nostra grande fortuna era molto è molto brava eh in quel campo eh abbiamo provato a cercare a chiedere aiuto a direttamente all'ASL quindi un pareri preventivi però allora e credo anche adesso non ne vengono rilasciati di 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 pareri preventivi quindi eh funziona un po' che fai fai il lavoro e poi scopri se va bene o meno eh quindi cerchi di farlo nel nel migliore dei miglior modo possibile eh alcune cose delle volte ti rimangono ancora dei dubbi se effettivamente quella cosa va bene o meno e e lo scopri lo scopri nel tempo noi abbiamo un laboratorio eh possiamo fare diverse lavorazioni in laboratorio ovviamente in tempi differenti eh non non trattiamo alimenti di origine animale quindi eh fortunatamente possiamo avere un unico laboratorio il trans il miele che smieliamo però in quel nel momento della smielatura non si fanno altre altre lavorazioni eh quindi è un laboratorio strutturato in modo tale da essere utilizzato per per diversi aspetti per l'essiccazione abbiamo l'essiccatore eh una volta ce l'avevamo piccolino con dopo l'incendio siamo riusciti a prenderne uno molto più grande che tratta sui cinque sei chili eh di prodotto eh fresco e quindi è stato anche quello un bel salto una bella differenza perché fino a all'anno prima eh lavoravamo con un essiccatore che aveva i vassoietti grandi così e e anche quella una lavorazione che viene fatta separata e l'unica lavorazione che facciamo fare esternamente sono i cosmetici eh perché appunto non devi avere un'abilitazione specifica appunto per devi avere un laboratorio a sé a parte una abilitazione specifica per per lavorarli eh come corsi c'è il corso HCCP classico eh che rinnovo io ogni due anni con il corso di aggiornamento eh in azienda come obbligo abbiamo il corso per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari quindi il patentino il classico patentino eh che anche quello va rinnovato e poi abbiamo la patente il corso la patente per la guida del trattore e lui nello specifico per l'utilizzo della della motosega eh noi siamo siamo partiti come imprese individuale quindi eh burocraticamente più semplice rispetto ad esempio a eh a società o a aziende condipendenti eh perché non abbiamo diversi obblighi che invece altre aziende hanno tipo il corso antincendio il corso di primo soccorso non è un obbligo che abbiamo eh da quando lui è rimasto eh a casa adesso lui risulta come coadjuvante familiare eh però la l'impresa rimane comunque imprese individuale perché in questo momento era più semplice gestirla così ehm poi burocraticamente sulla parte della contabilità noi eh ci siamo affidati alla col diretti che è ovunque quindi eh ti affidi a quello eh anche lì eh non è così semplice neanche su su quell'aspetto perché eh tante cose devi devi imparartele da solo è un altro è un altro lavoro ulteriore anche quello eh tante cose devi saperle tu a priori perché non non è che ti viene servito tutto quanto ecco sul piatto quindi tra le difficoltà più grandi che ci sono ancora tuttora è banale dirlo ma è l'aspetto burocratico l'aspetto quello che che se non eravamo più che convinti all'inizio poteva essere un buon motivo per per mollare per fermarci e basta credo di avere grazie prego io volevo chiedervi come mai avete scelto questo nome e cioè qual è il significato che ci sta dietro e anche non so se ne avete parlato prima della vostra esperienza qui in università e quanto vi è stata utile ne avete già parlato no no ah ok no no e insomma accennato ok grazie allora il nome è il titolo di un libro di Mario Calabresi è un giornalista è un libro che ci è stato regalato dai miei genitori quando eravamo qua in università è un libro che è un insieme di racconti di persone in vari campi più diversi che hanno perseguito il loro sogno nonostante tutto nonostante tutti e quindi ci è stato regalato proprio perché durante il periodo dell'università quando noi cominciavamo a parlare del nostro progetto e ci veniva già detto lascia stare perché folle non trovati il lavoro a tempo indeterminato che così sei tranquillo e vivi più tranquillo quindi mi sembrava il miglior augurio per per noi e dare dare questo nome dopo è stata anche una fortuna perché sia all'inizio ci veniva chiesto come mai avevamo scelto un nome così strano che nessuno si ricordava nessuno non si ricordava nessuno adesso è è diventato un altro dei nostri punti di forza e in un l'università ha dato io ho visto la differenza in alcuni campi e ci ha permesso di avere una mente più aperta rispetto a quella che potevamo avere eh prima eh o rispetto a chi magari fa il nostro lavoro senza essere mai uscito dal da quel contesto eh perché ci ha permesso di di far girare la testa di far andare il cervello per trovare nuove soluzioni per eh per risolvere un problema se ad esempio con la drosofila per i lamponi eh che era uno dei grossi problemi di qualche anno fa eh è stato è stato sono stati i libri dell'università un po' la volta a a farci venire l'idea a provare a vedere se c'era una soluzione alternativa se potevamo cavarcela in qualche modo eh anche il diversificare il prodotto eh non è così scontato magari adesso lo è però quando siamo partiti noi non era così scontato diversificare la tua produzione le aziende erano faccio quello punto e basta se ti va bene mi compri quello se no vai da un'altra azienda e prendi un'altra cosa e soprattutto il prof Bertoni aveva ci parlava di diversificazione quando eravamo quando seguivamo il suo corso in università ed è stata una dei delle cose su cui ci siamo puntati eh di più eh quindi l'università si è eh ci ha permesso secondo me di di aprirci la testa quello quello sicuramente secondo me è vedere anche un po' fuori dagli schemi notiamo soprattutto tra le persone che lavorano nel paese che spesso una cosa l'hanno sempre fatta in un modo e andranno sempre avanti a fare in quel modo e il fatto mare di viaggiare di vedere posti diversi a volte mare ti fa ti fa accendere la lampadina diciamo quella cosa lì anche se è solo una stupidata provo a farla così e spesso paga ecco quindi è utile secondo noi un po' l'università anche in modo per confrontarsi tra persone che hanno esperienze diverse vivono posti diversi e aiuta sì quello sì quello sicuramente ci ha ha dato parecchi spunti ripeto vedo la differenza con i nostri con alcuni nostri coetanei che fanno il nostro stesso lavoro e magari con la fortuna di averlo avuto già a disposizione eh dalla famiglia eh che non hanno la c'è non riescono a vedere oltre oltre ecco sì sì non credo mille e volevo chiedervi avete visto il film la fattoria dei nostri sogni no è un documentario che è uscito un po' di anni fa ambientato in california che parla di questi due ragazzi che anche loro hanno questo sogno folle prendono un terreno enorme abbandonato e fanno questo frutteto enorme quindi poi ve lo consiglio andremo a vederlo sì la fattoria dei nostri sogni andremo a vederlo sicuramente grazie commentario hanno fatto praticamente un finanziamento aperto a tutti cioè chi voleva poteva donare ed è proprio la differenza che c'è con voi forse è questa che voi avete tirato fuori i soldi ci sono fatti finanziare però ok sì sì quello è altra realtà eh sì no eh noi su quello eh cioè a quell'aspetto lì eh ci siamo appoggiati dopo l'incendio eh fino a prima ce la siamo sempre cavati da soli dopo l'incendio è stato l'aiuto di tante persone che poi ci ha permesso di di ripartire così velocemente eh comunque l'aiuto piccolo del privato quindi anche in questo caso non stiamo parlando di finanziamenti pubblici di di chissà che cosa eh il contributo del piccolo ecco però andremo a vedere sicuramente il film volentieri posso? Sì prego prego eh buonasera sono Riccola Carlo Magno eh sono in collegamento dal sud d'Italia dalla Basilicata in provincia di Potenza eh ho apprezzato tantissimo il lavoro che stanno facendo Stefania e il suo compagno e sono restato molto eh sorpreso del del fatto che non hanno eh non sono riusciti ad essere nella nella loro attività supportati da nessun ente che opera sul territorio la burocrazia che continua a bloccare e a ad asfissiare le iniziative in tutta Italia volevo chiedere a agli amici a Stefania e al suo compagno se eh eh e come avendo vissuto un'esperienza eh del del tipo che ci hanno così bene illustrato eh ritengono che gli enti presenti sul territorio esempio gli enti parco le unioni dei comuni le comunità montane gli uffici decendrati della regione avrebbero potuto e possono incidere in qualche modo per eh dare una mano per aiutare soprattutto per quanto riguarda il superamento di tutte le pratiche burocratiche che rischiano di 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 bloccare le attività e di asfissiare gli imprenditori soprattutto i giovani che cercano un nuovo insediamento grazie grazie a lei allora sì ci avvaliamo della facoltà di non rispondere qualche anno fa avrei risposto diversamente perché avevo meno paura ehm però eh sì potrebbero fare sicuramente la la differenza eh cioè dovrebbero fare la differenza in realtà mi viene l'esempio molto semplice del della grandine assicurazioni e grandine eh noi nel 2019 abbiamo avuto la prima grandinata biblica eh che ci ha distrutto quasi tutto il raccolto di di quell'anno e non avevamo ma non l'abbiamo neanche tuttora un'assicurazione eh per gli eventi meteo avversi perché non esiste perché nel senso non esiste per aziende come la nostra esiste per aziende giganti che coltivano una cosa sola e quindi lì è facile puoi assicurarla otto tettari di di banane quindi quelle le assicuro la nostra è un'azienda piccola eh frazionata eh tante colture diverse quindi anche quando provi a a stipulare un'assicurazione non non ce la fai l'anno scorso siamo arrivati quasi a forse a riuscire a trovare un'assicurazione eh con un consorzio anche un consorzio di difesa quindi mente apposta per queste cose però a un certo punto chi ci stava stipulando la polizza ci ha detto io vi faccio l'assicurazione ad esempio sulle pere però voi ne avete tanti tipi diversi io non sono sicuro che in caso di danno riusciremo poi a rimborsarvi perché vi facciamo figurare come un unico tipo di pere però in realtà ne avete diverse e quindi eh con l'assicurazione con la grandine ci siamo arrangiati appunto in un altro modo quindi investendo altri soldi per la rete antigrandine per cavarci cavarcela in un altro modo eh quello è quello è un esempio eh l'altro è quello del laboratorio che abbiamo dovuto andare a tentativi abbiamo avuto la grande fortuna di trovare una figura un geometra eh sveglio sveglia eh parecchio sgamata sul lavoro e quindi quello è stato la nostra fortuna però anche lì è stato un tentativo eh se parliamo degli enti locali eh non c'è per noi non sono pervenuti ecco non è il comune per l'incendio dopo c'è stato sì sì è il comune ecco sì magari dimentico il comune perché siamo in un paese piccolo e quindi tipo il sindaco non è che è la figura intoccabile come l'imperatore che non sai chi è cioè lo incontri al bar e quindi li consideri tutti persone tutti amici però in effetti sì l'unico ente l'unica l'unico ente è il comune se andiamo oltre non non abbiamo mai trovato non abbiamo mai trovato un grande appoggio ecco all'inizio quando ci siamo eh appunto quando cercavamo di capire come partire quando siamo andati in comunità nella comunità montana ci han detto che eravamo due pazzi ma di lasciar perdere perché non non ce l'avremmo mai fatta coltivando eh coltivando piccoli frutti non ce l'avremmo mai fatta andare avanti quindi noi siamo stati fortunati che abbiamo avuto la nostra famiglia alle spalle altri due lavori ecco non non possiamo dire di 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 avercela fatta per per il pubblico per per le figure che magari invece dovrebbero fare la differenza ecco grazie stefania grazie grazie no farei un appello alle autorità preposte perché prendano in considerazione queste cose soprattutto per eh diciamo azzerare i burocrati che non servono a nulla e che combinano solo disastri in Italia grazie 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 ho visto forse chiedevano eh i fiori commestibili esatto esatto sì allora noi eh il mix che arriviamo a avere a fine stagione perché è un mix che costruiamo dalla primavera fino più o meno all'autunno eh comprende la calendula il fior d'aliso il nasturzio ci sono dentro dei petali di rosa eh il trifoglio il girasole i garofani eh il lilla la caccia si è un mix che si costruisce eh durante la la stagione poi varia anche un po' seconda seconda degli anni alcuni eh alcuni proprio sono fiori che coltiviamo coltiviamo appositamente appunto per per creare quel mix e anche per i fiori eh avete avuto problemi nella commercializzazione cioè nel fare i mix o comunque appunto nel certificare che quelle sono veramente specie quella è un'altra è un altro aspetto burocratico che ehm ha creato difficoltà quando eh a voi abbiamo voluto soprattutto ampliare l'offerta con le tisane eh perché ehm noi possiamo commercializzare tisane eh solo monoerba quindi non possiamo miscelarle possiamo farle miscelare solo eh a un laboratorio esterno a un erborista a un farmacista e quindi quello è stato un'altra grossa un altro grosso una grossa difficoltà eh i mix di erbe aromatiche con il sale quindi da utilizzare per aromatizzare i piatti quello possiamo farlo quindi per assurdo eh sì è una cosa è un'altra di quelle cose assurde che anche lì abbiamo cercato di di trovare una soluzione di capire perché volevamo appunto eh aggiungere queste tisane miscelate all'offerta però fino a fino ad ora quello che la soluzione che abbiamo trovato è quella di affidarci se volessimo se volessimo a un laboratorio esterno eh per la parte gastronomica quindi culinaria in quel caso il fiore commestibile si può si può eh così come miscelare le erbe con con il sale si può eh se miscelo la menta con la melissa e le lascio lì quelle no eh sì sono quelle cose assurde che sono piccoline però se non ci fossero ecco ti permetterebbero di avere un ventaglio di prodotti migliore ecco quello sicuramente cosa che però tra l'altro eh è limitata la nostra regione perché ad esempio in Trentino Alto Adige questa problematica ad esempio delle tisane miscelate non esiste perché hanno un loro disciplinare e quindi anche l'agricoltore se si attiene a quel disciplinare può può commercializzare le miscelate può seguendo la ricetta che il disciplinare gli gli fornisce può quindi anche una cosa che cambia dalla regione oltre che all'ASL che cambia dalla provincia c'è anche cambia a seconda della regione non so se ci sono altre domande magari da chi è collegato anche se non ci sono altre domande eh da casa o dalle ragazze quasi tutte ragazze in aula eh io eh ne approfitto per salutarvi eh purtroppo non sono riuscita a essere qui all'inizio a salutarvi insomma nella prima parte del dell'incontro però ci tenevo a quantomeno a esserci a sentire eh anche piccola parte perché c'è sempre molta passione eh e questo fa la differenza è un ingrediente essenziale insieme alla competenza la tenacia voi siete un esempio da questo punto di vista e per noi come dire è un punto d'orgoglio in qualche modo avere eh eh nella nostra scuderia perché la consideriamo così testimonianze di questo di questo tipo che dimostrano da una parte che si può che costa tantissima fatica quindi bisogna essere veramente eh determinati eh voi fate emergere sempre la schizofrenia del sistema e lo dico io cioè a prescindere da chi è collegato magari ci sono anche figure istituzionali sarebbe bello ehm è raro che succeda perché di solito di solito ci sono i saluti iniziali che ultimamente sono anche attraverso video costano pure meno e poi e poi e poi via allora l'unica eh l'unico rimedio è andare avanti fare massa critica perché quando si comincia ad essere di più si conta si pesa l'esempio che hai fatto dell'assicurazione folle eh rende l'idea dopodiché altrettanto folle che noi in questo momento io queste ore questi giorni sono impegnata a scrivere un progetto nel piano nazionale di ripresa e resilienza che riguarda il progetto per le università che riguarda le aree interne le aree montane nel nostro caso e che fa proprio focus su realtà come la vostra no perché eh l'obiettivo è quello di eh aiutare implementare sostenere supportare dare quello che serve dopodiché la sensazione che ho io e lo dico fuori dai denti eh che spesso noi guardiamo in modo un po' strabico cioè guardiamo in una direzione e forse anche troppo lungo rispetto alle esigenze e ai bisogni che sono molto più eh lo so io ho questa esperienza anche di campo che mi viene regalata dal fatto che sono qua in questa sede che è tra le montagne fa molto la differenza no perché crea la connessione e il contatto con la con la dimensione reale quindi qual è il tema che eh 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 dunque a noi viene chiesto di individuare l'innovazione che può essere utile alle aziende come la vostra eh agli operatori di settore no? Eh e noi lavoriamo in questa direzione spesso però quello che emerge e quello che voi raccontate pur disturbandomi parecchio perché continua a disturbarmi parecchio io lo conosco benissimo dai tanti anni di lavoro in questo ambito cioè nel tema nel nell'alveo dello sviluppo dei territori montani dove ripeto ehm ma l'avete detto molto bene cioè purtroppo chi dovrebbe eh formulare eh situazioni condizioni no facilitanti e alle volte basta poco perché sono procedure no? Che non puoi applicare in maniera settica in una grande azienda in una piccola azienda no? In pianura in montagna cioè ci vuole una eh customizzazione di questi processi eh è difficile io non lo nascondo però eh quello che posso dire è che vale la pena ad andare avanti perché di tenere duro e di fare un po' da apripista perché è quello che voi state facendo voi state tornando appartenete a quella eh schiera di giovani che stanno tornando a fare attività in contesti che per molto tempo sono stati solo abbandonati dai giovani invece voi siete come dire non siete soli lo sapete bene eh tra l'altro vi invito e anticipo questa cosa che ci sarà non so ancora la data la stiamo organizzando però vi invito a esserci in presenza meglio se non ci riuscite per i vostri impegni da remoto arriverà una delegazione dalla Basilicata sono bravissimi è un gruppo eh ecco qui è un bel esempio di pubblica amministrazione che funziona bene che supporta in modo importante eh gli operatori tant'è vero che si sono generate tutta una serie di eh circuiti virtuosi eh di aziende eh di produttori quindi arriveranno sia i colleghi di questo eh organismo regionale di supporto che i produttori saranno una cinquantina l'idea nostra è quella di cercare di creare le alleanze i ponti no tra questi mh tra queste dimensioni che ci sono queste realtà che ci sono perché come dicevo prima bisogna fare massa critica perché allora la voce diventa un po' più forte e eh e se considerate questo io lo posso dire perché faccio questo di mestiere nei documenti programmatici la montagna c'è eh molto di più rispetto a vent'anni fa quindi oggi c'è una tendenza a riconoscere da parte degli strumenti di governo dei dispositivi di di governo insomma eh delle istituzioni di governo della necessità di non lasciare indietro territori perché poi si paga tutti no la la formula è cerchiamo di ridurre le diseguaglianze questo è una formula mondiale vale in generale quindi gap no tra territori perché in questo modo si crea stabilità cioè se tutti stanno bene è evidente che il sistema è stabile no eh nella nostra dimensione nazionale questo significa ridurre le differenze di opportunità in tutti i sensi tra alcuni contesti territoriali c'è chi li chiama aree interne c'è chi li chiama aree marginali eh noi ci occupiamo in questo calderone delle aree montane che hanno una connotazione ben precisa e che hanno bisogno di formule ben precise che non sono quelle general generiche delle aree marginali o delle aree disagiate perché sono concetti che veramente eh poi ecco creano quell'ambiguità che impedisce la messa a punto di strumenti adeguati eh questi sono guardate sono temi che noi portiamo ai tavoli l'unica cosa che posso dire è che con determinazione a tutti i tavoli regionali nazionali europei questo mantra viene come dire riportato con puntualità quello che posso dire che nei nei vent'anni che insomma più o meno corrispondono a al periodo eh lungo oramai di frequentazione di questi tavoli da parte mia la situazione è migliorata c'è contezza e si parla di montagna quindi si sta creando un framework no? Poi io credo che eh sostenibilità eh sviluppo sostenibile non si siano o restano dei concetti eh teorici eh per diventare realtà devono necessariamente mettere in gioco questi contesti territoriali e quindi bisogna ripeto ancora una volta tenere duro lavorare tanto a voi è inutile che lo dica perché lo sapete molto lo fate concretamente nonostante le avversità l'incendio eccetera eccetera però insomma eh soprattutto che adesso lavorate lì tutte e due quindi è un altro passo importante di eh e ripeto noi siamo ben contenti di anzi vi ringraziamo della disponibilità a venire a raccontare la vostra esperienza perché conta è importante eh i nostri studenti a a fasi alterne a seconda dell'interesse ma è un po' un peccato perché queste sono occasioni imperdibili di eh di confronto con la realtà poi no? Con la dimensione reale e sono l'occasione di prendere dei contatti per chi vuole fare questo tipo di esperienza a sua volta no? Perché eh poi è con la rete e con le relazioni e con i rapporti e condividendo e acquisendo buone pratiche capendo dove cosa fanno altri per risolvere magari che 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 si hanno ehm che si va avanti e da questo punto di vista questo polo nasce e cresce per con questo tipo di modello quindi noi possiamo dire che funziona insieme a voi no? Quindi ragazzi bravi eh complimenti eh eh Danilo ci sei? Professor Bertoni che è stata eccolo qua. Eccolo qua. Ci sono. Ciao Danilo. Ciao. Ciao. Sempre bravissima tu a fare a moderare molto più di me a fare la moderatrice. No ma guarda io io volevo volevo mi sono infilata nell'aula perché volevo proprio salutarli ci tengo insomma eh sono ripeto testimonial che che insomma che ci danno a fare una mano ecco a fare il mestiere che 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 facciamo anche noi con una quota di determinazione eh perché insomma non è così banale ehm quindi niente Danilo se se vuoi aggiungere insomma e chiudere. Certo allora io ancora veramente tantissimi ringraziamenti a Stefania e Simone. Io faccio una chiusura diciamo da 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 politologo agrario quindi mi riallaccio anche al precedente intervento di Nicola Antonio Carlo Magno eh purtroppo dobbiamo effettivamente constatare che le politiche nel caso specifico le politiche agricole eh non sono conformate per sostenere questo tipo di aziende che da un punto di vista non solo economico ma anche proprio di gestione del del territorio ricordiamoci che eh l'azienda di di Stefania eh e Simone opera eh su su un versante eh di una valle alpina quindi in una situazione sicuramente difficile eh ma questo garantisce il il presidio del 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 territorio garantisce il paesaggio garantisce la permanenza di di una di una famiglia in montagna e questo tipo di azienda che quindi ha una valenza eh di tipo multifunzionale non è sostenuta dalle politiche agricole che come sappiamo eh si basano per quello che riguarda i pagamenti diretti della PAC sulle superfici condotte evidentemente qua le superfici sono sono molto modeste quindi non questo tipo di aiuto non serve assolutamente a questa azienda ma anche gli strumenti del secondo pilastro cioè le politiche di sviluppo rurale l'ha detto bene eh Stefania i bandi di queste misure non sono conformati assolutamente per soggetti neo entranti nel settore perché a non vanno a finanziare l'acquisto dei fondi ma solo eh gli investimenti e poi nei meccanismi dei bandi purtroppo se sei eh una persona che 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 entra ex novo nel nel settore ci sono tutta una serie di di difficoltà che poi vanno vanno a scoraggiare ecco bisogna assolutamente cambiare eh il paradigma di 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 queste politiche soprattutto per quanto riguarda le aree montane perché si rivelano eh assolutamente eh inadatte eh che dire faccio anche un po' di pubblicità occulta io consiglio veramente di andate a andate in Valtrompia io l'ho fatto sono andato a a l'udizio di Boveni ho passato una bellissima giornata fra le montagne e ho avuto l'occasione insomma di di visitare direttamente l'azienda di di Stefania e Simone devo dire è stata veramente una una bellissima esperienza ho potuto anche degustare eh i loro i loro prodotti quindi insomma ne vale la pena ecco grazie ancora veramente è detto c'è un microfono c'è un microfono c'è un microfono c'è un microfono aperto di di o c'è un intervento in eh no Sara nessuno ha chiesto di parlare va bene direi grazie ah sì quindi stavamo chiudendo ma no ecco meglio allora la mia domanda è un po' presuntuosa perché già dopo dopo tutta la storia che avete raccontato che già è straordinaria la mia domanda è avete altri progetti idee future per sì sì per curiosità eh no no quelle ce ne ne abbiamo sempre ce ne ogni anno noi appunto cerchiamo di investire da in qualcosa di nuovo per per diversificarci per renderci appunto più più appetibili eh l'area picnic che abbiamo fatto prima è una piccola cosa però eh ci puntiamo molto perché vuol dire portare più persone da noi in azienda quindi a scoprire eh quel buco di prato nel nel bosco eh i sogni sì ci sono tanti ci piacerebbe trovare un altro un altro rustico un altro rudere da da ristrutturare per magari allargarci sulla parte delle merende della ristorazione mantenendo però sempre la la parte preponderante della dell'agricoltura perché su quello ci ci teniamo parecchio a non diventare nel classico ristorante ecco eh mascherato da agriturismo e però sì i sogni sono sono parecchi ci stiamo allargando con le colture eh col fresco abbiamo preso un altro terreno ancora per allargarci con la coltivazione delle patate che è un altro di quelle cose che vengono date per scontate le patate di montagna ma in città le le guardano con gli occhi così e magari per noi sono una stupidata però anche quello è un altro progetto e quelli ce li inventiamo ogni volta cerchiamo di non rimanere fermi soprattutto con la testa per perché se no è no ma anche questa è una caratteristica comune che avete tutti voi come dire nuovi imprenditori della montagna perché e posso dirlo perché insomma adesso ne ho visti e sentiti e ne conosco tanti oramai eh è un piccolo esercito che cresce brutto oggi usare questo termine no un piccolo gruppo che cresce cresce e e ripeto si tratta secondo me di io non voglio banalizzare ma di tenere duro andare avanti perché eh insomma si aprono degli si aprono degli spazi e inevitabilmente come dire eh il sistema dovrà seppur lentamente ma questo in ogni ambito acquisire e modificare tutta una serie di eh impalcature costruite su modelli di sviluppo eh omologati no con un solo come dire mantra che è quello della produzione di quantità no e di però ripeto le cose vedo che Danilo sorride non voglio fare l'economista io però a sensazione Danilo non è il mio mestiere ma io no non per quello paneggio le piante ma molto meglio e credo che eh insomma ci vorrà ancora un po' di tempo ma d'altra parte lo testimoniate voi quindi anche questa effervescenza questa creatività questa capacità di guardare come dire l'ampio spettro eh è una prerogativa comune dovremmo codificare Danilo tutti questi aspetti che congiungono perché secondo me ne vengono fuori indicazioni molto utili scusate ne approfitto per va bene dai allora se poi questi incontri sono delle chiacchierate la finalità è quella di ripeto creare gruppo no? sì di dare spunto certo perché io ricordo appunto quando eravamo in università che era quello che cercavamo di più lo spunto il consiglio l'aiuto il parlare con qualcuno che effettivamente facesse quel lavoro eh era una cosa che cercavamo parecchio quando quando volevamo quando cominciavamo un attimo a imbastire il nostro progetto e quindi queste opportunità per noi valgono tanto non per noi ma per magari dare eh qualcosa che noi abbiamo cercato per tanto tempo senti ma la domanda delle domande te la faccio io poi chiudiamo ma lo rifareste? sì oh boh basta allora sì sì ecco va bene allora eh ecco questa è la risposta più bella sicuramente quindi vuol dire che insomma la via è quella giusta bene allora buona buona serata a tutti e alla prossima i prossimi appuntamenti eh che non mi sono così tanti che non me li ricordo quindi non sono capace di ricapitolarli grazie a tutti arrivederci profilo ciao ciao arrivederci a presto ciao bene ma la bambina sì con l'articolo dei vasi sì